Servirà la miglior a Membici Servizi domenica alle 18 al Palace Portestra per affrontare la stosa Siena, che dopo lo stop rimediato nella prima di campionato ha subito invertito rotta, conquistando due successi consecutivi. Confermato in panchina a Coach Lasi dopo la vittoria dei play-off dello scorso anno, Siena ha affiancato al nucleo storico giocatori di grande impatto per la categoria, permettendo anche la crescita di un talento fatto in casa come Calvellini. Il trio di nuovi arrivati, Bolis, Diminic e Lombardo, hanno dato qualità e fisicità ad un roster già molto competitivo, come l'Hamm in Bici Servizi ha avuto modo di poter vedere nell'amichevole precampionato disputato un mese fa a Siena. Rispetto alla trasferta di Cecina di sabato scorso, in casa Maranto è pienamente recuperato Terrosi, che va così ad allungare le rotazioni a disposizione di Coach Evangelisti. Per questa sfida, diventato ormai un classico delle ultime stagioni, la sbacchia ma raccolta tutti i propri sostenitori per provare ad invertire un pronostico sulla carta sfavorevole visto il tasso tecnico dell'avversario.